Stiamo verificando con la videosorveglianza se ci sono immagini e chiaro che poi una volta individuati i responsabili devono essere assolutamente puniti e allontanati dal centro storico. Il sindaco conferma, le indagini sono ancora in corso alla ricerca dei protagonisti della rissa avvenuta nella notte di sabato in contrappe Scheria Vecchia, a poche ore dalla cerimonia di accensione delle luminarie natalizie. Due eventi nel centro storico che stridono, da una parte si lavora per valorizzare la città, dall'altra fatti di cronaca odiosi si ripetono negli stessi luoghi, questa volta ad opera di militari statunitensi che avrebbero aggredito due vicentini mandandoli all'ospedale. Sul da farsi per evitare i ripetersi di episodi simili le opinioni si contrappongono, in qualche caso però concordano. Si ripete perché? Perché probabilmente nel momento in cui le persone cominciano ad alzare il gomito, come si suol dire, è lì e sono gli esercenti che dovrebbero un attivino controllare le persone e vedere se superano determinati limini. Ci vorrebbe molta più vigilanza, anche solo la polizia che passeggia. Per me potrebbero anche passare a tutti i bar a bere un caffè tranquillamente e chi ha malintenzioni si allontana da solo. Soprattutto sul tardi ci sarebbe bisogno più che la polizia si muovesse un po' di più. Dovrebbe intervenire in prima persona il prefetto e mettere delle ordinanze in modo che la polizia abbia molte più possibilità di uscire e di fare il loro dovere che in questo momento non può. Un provvedimento che va proprio in questo senso è stato definito dopo l'ennesima rissa di sabato dal sindaco con i vertici militari statunitensi. L'accordo con il comando è infatti di effettuare dei DASPO che sono praticamente l'impedimento ai responsabili nel caso in cui appunto si rendessero responsabili di fatti di questo genere. Quindi non devono più avvicinarsi a quel tipo di locali, a quella zona. Grazie. 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 Grazie.